Un importante passo per dare contenuto alle case della salute. Va in questo senso l'accordo siglato presso l'ospedale Castelli di Verbagna tra l'ASL, VCO e i sindacati dei medici di medicina generale presenti da Miano del Barba, della SMI e Antonio Lillo e dell'Essacco, della FIMG. Una firma ritenuta importante da ambo le parti. Nell'accordo si parla anche di una collaborazione sulle malattie croniche con un progetto pilota sperimentale per dare vita ad un percorso dedicato alla cronicità respiratoria. La Casa della Salute, che vede Cannobio pioniera in quest'ambito, dovrebbe essere operativa a Omegna in un paio di mesi. Da qui la soddisfazione sull'accordo espressa dal sindaco Megnese Marchioni. L'organizzazione della Casa della Salute permetterà, dice, di affiancare ai medici di famiglia una serie di importanti figure professionali, quali gli assistenti sociali e i medici specialisti, ma anche di offrire una continuità assistenziale giornaliera garantita dalle 8 alle 20 e notturna, spiega. Intanto sul fronte della sanità ossolana partirà il 2 maggio l'orario continuato per gli sportelli CUP dell'ospedale San Biagio di Domodossola. Saranno aperti dalle 8 e 30 alle 16 senza pausa pranzo, grazie a un accordo biennale tra l'Asle e la cooperativa azzurra che gestisce il servizio. Ricordiamo anche la proroga di un mese per l'incarico dell'attuale direttore generale dell'azienda sanitaria Giovanni Caruso. Il mandato doveva scadere il 30 aprile ma è stato prolungato fino al 30 maggio in attesa che la regione completi le procedure per la nomina dei nuovi direttori generali delle Asle piemontesi.